Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, buon mercoledì 29 luglio a tutti. Partiamo oggi con una news importante che vogliamo riportarvi prima di parlare della delicata trasferta di questa sera alle 19.30 contro la Sampdoria. Secondo quanto riporta il collega autorevole della Repubblica, se Maldini va verso la conferma come abbiamo riportato nel nostro ultimo video di ieri, la posizione di Frederic Massara e di Almasch potrebbero essere in bilico. Certa invece sarà la permanenza di Moncadà. Sotto esame della dirigenza c'è anche Ivan Gazzidis, questo nella prossima stagione sportiva, perché vogliono verificare, il Fonduit vuole verificare l'effettivo lavoro nell'area commerciale. Area commerciale che dovrà trainare il Milan per far crescere il fatturato, per far crescere un po' le aspettative del club. Area commerciale che in questi ultimi anni è stata rinforzata con dirigenti di grandi squadre da Ivan Gazzidis ma per il momento, se non l'accordo con Fly Emirates seglato un paio di giorni fa, che è un accordo importante, però al momento grandi sponsor non sono ancora arrivati. Quindi secondo quanto riporta Repubblica, Maldini verso la conferma, quindi conferma la nostra indiscrezione. Frederic Massara e Almasch sono un pochino in bilico e Ivan Gazzidis verrà valutato nella prossima stagione, alla fine della prossima stagione, quindi concluso il triennio riguardanti l'aumento di introiti commerciali. Ma andiamo alla partita, parlando di Sampdoria-Milan, partita che si giocherà questa sera alle 19.30. Partiamo con una statistica, il Milan nelle ultime partite ha sempre fatto abbastanza bene con la Sampdoria, ma la statistica di Pioli ci dice che Stefano Pioli da allenatore non ha un bilancio favorevolissimo contro la Sampdoria. Infatti il tecnico emiliano ha vinto solo tre volte contro la Sampdoria, pareggiando otto volte e perdendo cinque confronti. L'ultima vittoria di Pioli contro la Sampdoria risale al 13 dicembre del 2017, quando all'epoca era sulla panchina della Fiorentina e vinse 3-2 nell'ottavo di Coppa Italia. Il Milan come scenderà in campo? Scenderà in campo con una formazione abbastanza confermata rispetto all'ultima partita, tornerà titolare Tornandez e Ben Nasser che hanno scontato la squalifica, quindi la formazione sarà Gigi Donnarumma in porta, con Calabria a destra perché Conti è infortunato, con Gabbia e Kier centrali, con Teo Hernandez appunto sulla sinistra. Centrocampo a due con Chessy e Ben Nasser, un Ben Nasser che sarà fresco, che sarà riposato, quindi sarà molto importante per il centrocampo rosso-nero. Tre trequartisti con Cerenoglu confermatissimo in mezzo come fulcro del gioco, come cervello della manovra offensiva, con Rebic largo sinistra e con Salame Kers a destra che è e in vantaggio nel ballottaggio con Samu Castiglieco. E davanti titolarissimo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan torna Marassi dopo 297 giorni, l'ultima di Giampaolo e una gara al Cardiopalma, così titola Milan News. Il Milan torna Marassi dopo 297 giorni e quasi una vita fa, parliamo del 5 ottobre 2019 quando i rossoneri, ancora guidati da Giampaolo, riuscirono a strappare un successo contro il Genoa. Dopo una gara al Cardiopalma, tre gol, quattro espulsioni, due dalla panchina e un rigore parato, se vi ricordate, da Ereina al 93esimo. Questa fu la gara, l'ultima gara prima di Marco Giampaolo, prima che subentrasse Stefano Pioli. Quindi Stefano Pioli che ha preso la squadra in mano dopo la disfatta di Genoa. Quindi 267 giorni fa, quasi un anno fa, Pioli prese in mano il Milan. Altre notizie molto importanti che vogliamo riportarvi è che Ibrahimovic ieri molti di voi si sono un po' insospettiti, che alcuni colleghi hanno riportato il fatto che Ibra sarebbe arrivato, sarebbe aggregato in un secondo momento alla squadra e molti di voi mi hanno scritto su Instagram pensando ma Ibra non gioca, Ibra non sta bene. In realtà erano tutti titoli fasulli, Ibra aveva già fissato un incontro commerciale in tardo pomeriggio di ieri ma già nella prima serata Ibra ha raggiunto i compagni a Genoa e sarà titolarissimo contro la Sampdore. Sarà una partita molto difficile quella contro la Sampdore perché la Sampdore arriva da un ottimo momento. La Sampdore che in questo momento è salva quindi gioca tranquilla, gioca senza pressioni e da quando è subentrato Ranieri il post lockdown ha tenuto delle belle vittorie, delle importanti vittorie che le hanno permesso di salvarsi senza problemi. Quindi sarà molto importante per il Milan entrare fin da subito in campo con grande decisione, con grande mentalità e cercare di far subito su alla partita imponendo subito il ritmo alla Samp. La Samp è una squadra che ultimamente ripeto sta bene ma sta anche trovando con facilità il gol. Quindi il Milan se vuole provare a inseguire il sogno quinto posto per evitare i preliminari d'Europa League deve far di tutto per vincere queste due partite. Come ha detto Pioli non dipende solamente da noi, dipende anche molto dal risultato di oggi di Roma-Torino. La Roma se dovesse pareggiare potrebbe aprirsi un grande spiraglio per il Milan visto che l'ultima la Roma la giocherebbe contro la Juventus che seppur ha vinto il campionato comunque sappiamo che vuole sempre cercare di fare bene, cercare di non perdere e di non perdere in qualche modo il ritmo e soprattutto la mentalità che la Juve ha bisogno di portare avanti, di seguire per cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions League. Quindi dobbiamo sperare una bella prestazione del Milan di oggi, della prestazione dei ragazzi e sperare che la Roma faccia un passo falso stasera contro il Toro. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.